È un'esperienza molto recente, parte ufficialmente su LinkedIn ai primi di luglio, quindi a ridosso delle vacanze, non vi dico la fatica di fare networking, a ridosso delle vacanze quando tutti cominciano ad andare in spiaggia. Nell'arco del primo mese abbiamo raccolto circa 110 iscrizioni, ci siamo trovati, abbiamo organizzato già un evento, appunto lo Spritzin, il 29 luglio con un'adesione di circa 30%, quindi eravamo già a 25-30 adesioni, che visto il periodo e visto anche l'età precoce dell'iniziativa si può anche considerare un ottimo risultato. Ad oggi contiamo quasi 300 iscritti e siamo prossimi a costituirci come associazione, dentro fino a mese depositeremo lo statuto, quindi a tutti gli effetti entriamo a fare parte del Tre BIM.